Alvia le immatricolazioni all'Università degli Studi di Perugia con le procedure aperte dal 1 agosto e al 21 ottobre per i corsi di laurea di primo livello per quelli al ciclo unico ad accesso libero. L'Ateneo ha spiegato che la domanda va compilata e presentata interamente online direttamente da casa o recandosi presso il punto immatricolazione di Perugia e Termi. Il manifesto degli studi e tutte le informazioni utili al fine di fare correttamente l'operazione sono disponibili sul sito internet dell'Università. Procedure specifiche detto in un comunicato dell'Università sono previste per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale di durata biennale, iscrizioni consentite fino al 28 febbraio 2020 e soprattutto per quelli ad accesso programmato. Mi apprezzerai gli insegnamenti per il tuo presente.